amici di fano tv ben trovati in questo speciale dibatteremo esclusivamente il tema inerente la sanità vado subito a salutare i nostri ospiti ben trovata lucia tarsi candidata alle regionali nella lista civitas civici naturalmente a favore di francesco acquaroli buonasera a tutti e buonasera ad un altro ospite giancarlo danna ben trovato buonasera a tutti buonasera io faccio subito una proposta che maria elena visto che ci conosciamo passiamo al tu per favore non diamoci delle che questa deve essere una chiacchierata informale va bene allora renderemo partecipe in questa maniera molto molto più tranquilla diciamo così anche il pubblico a casa allora giancarlo danna è il nostro ospite di questa sera perché sei stato appunto nella commissione sanità anni addietro quando sei stato consigliere regionale e siamo qui per fare proprio uno spaccato un sunto delle cose successe perché rispetto ad oggi la situazione ai noi non è troppo cambiata vogliamo partire allora come si dice dall'inizio ma l'inizio parte quasi vent'anni fa nel senso che ci fu una mozione tra l'altro di una consigliera regionale di fano che parlò per la prima volta dell'ospedale unico circa una ventina d'anni fa e ancora non ero in regione dopodiché sono stato eletto in regione e ho chiesto esplicitamente di entrare a far parte della commissione sanità perché credevo che fosse opportuno avere un riferimento importante all'interno di quella commissione per tutti i cambiamenti che erano previsti sono stato vicepresidente della commissione sanità ovviamente di opposizione mi sono reso conto nel corso degli anni che la tendenza era quella di svilire e sminuire gli ospedali dell'entroterra e l'ospedale di fano a vantaggio di quello che poi doveva essere un ospedale unico o un'azienda unica perché poi c'è anche questo aspetto da sottolineare e sia in regione con alcune proposte di legge come sul territorio con la collaborazione del comitato santa croce di cui lucia tarsi era uno dei massimi esponenti abbiamo cercato di far capire non solo la cittadinanza ma anche alle autorità locali quello che stava accadendo io ricordo che addirittura mandai una mail a tutti i sindaci della provincia di peso l'ulvino nella quale indicavo quello che era il percorso che ci avrebbe portato a ridimensionare l'ospedale di fano a chiudere gli ospedali dell'entroterra di risposte su 67 sindaci ne ebbi solo tre in via telefonica tutti gli altri si erano completamente dimenticati di approfondire quel tema quel tema che poi si è concretizzato in un piano socio sanitario che è quello che decide il percorso da attuare nel corso degli anni in questo piano socio sanitario era evidente prima ancora di votarlo che per la nostra provincia ci sarebbe stato un solo ospedale e tutto il resto niente o quasi niente ospedale unico vuol dire che ce n'è uno solo adesso senza andare nel dettaglio della legge quindi c'è stato tempo tra la presentazione della legge l'approvazione della legge per incidere per intervenire con una posizione contraria a quella che poi avrebbe portato all'attuale situazione siamo stati criticati siamo stati anche abbandonati trasversalmente questo è giusto dirlo e ricordarlo e oggi vedere che quelli che consapevolmente inconsapevolmente sotto traccia hanno contribuito a far sì che la situazione sanitaria fosse quella che è oggi tutti quanti parlano di sanità e questo francamente non è giusto non è giusto nei confronti dei cittadini che vengono presi in giro chi ha contribuito a all'attuale situazione dovrebbe avere il coraggio quantomeno di chiedere scusa per quello che ha fatto perché in un'italia nella quale ci sono fin troppi pentiti alcuni veri molti finti credo che sia opportuno distinguere tra chi si è impegnato concretamente come Lucia Tarsi e altri che invece magari stanno parlando di sanità solo ed esclusivamente perché c'è una campagna elettorale non vorremmo che le promesse di oggi siano tale quali alla mancanza di attenzione del passato relativamente a questo argomento. Quindi sembra che ci sia proprio uno stato di stasi veramente di questa situazione più che sviluppi positivi sembra addirittura che ci sia stata una regressione o che comunque siamo fermi dove esattamente eravamo rimasti. In più è stato firmato questo protocollo d'intesa. Sì il protocollo d'intesa è stato uno degli argomenti sicuramente più dibattuti nell'ultimo periodo nell'ultimo anno. Il protocollo è stato firmato dal sindaco Seri e dal presidente Ceriscioli ed è diventato un cappio al collo all'ospedale Santa Croce. Perché questo? Perché in quel protocollo vengono enumerate alcune situazioni che il PD ha esaltato e ha giudicato un grande successo. Se poi li andiamo invece a vedere nel dettaglio ci accorgiamo che sono state non un successo ma un grande inganno a partire per esempio dai reparti. Ci sono dei reparti storici del nostro ospedale come oculistica, come otorino, come ginecologia che il protocollo si impegna a trasferire a Pesaro e quindi a Fano non ci saranno più. Anche sulla stessa chirurgia sulla quale era stato promesso che comunque sarebbe rimasta attiva e sarebbe rimasta H24 cioè tutto il giorno e tutta la notte, bene attualmente questa cosa non è così, non funziona così. La vera chirurgia H24 è a Pesaro. C'è poi la considerazione sul fatto che in quel protocollo venivano inseriti 80 posti letto per residenza sanitaria per anziani. Ma quegli 80 posti letto erano già stati assegnati all'ospedale di Fano già nel 2007 in un protocollo precedente. Quindi non sono un successo del protocollo Seri-Ceriscioli sono di fatto una riconferma di ciò che avremmo dovuto avere. I 20 milioni, 20 milioni per la viabilità che tra l'altro in questo periodo ci siamo pure resi conto che sono assolutamente insufficienti per costruire una strada che porti da Fano a questo fantomatico nuovo ospedale. Ma mi viene da dire, è evidente che se costruisco un ospedale in una zona come Muraglia prima di tutto dovrò aver previsto una strada per arrivarci. Quindi non è un successo aver ottenuto quei 20 milioni, è casomai la condizione senza la quale l'ospedale non si può fare. E quei 20 milioni, ricordiamocelo, che in realtà sono una cifra assolutamente risicata, insufficiente per costruire una viabilità che possa essere adeguata per raggiungere questo ipotetico nuovo ospedale. Altra cosa assolutamente importante è il fatto che nel protocollo vengono dedicati, vengono assegnati 50 posti letto di ortopedia ad una clinica privata che dovrebbe sorgere a Chiaruccia. Ora, quei 50 posti letto di ortopedia in realtà sono stati depredati dall'ospedale pubblico. Perché? Perché noi avevamo un'ortopedia che, non so, tanti di noi se la ricordano sicuramente, tra chi è stato degente, tra chi ci ha lavorato, era un'ortopedia di eccellenza della nostra regione. Anzi, venivano addirittura da fuori a curarsi nella nostra ortopedia. E l'ortopedia fanese aveva, nei suoi momenti di massimo splendore, più di 50 posti letto. Bene, oggi non ce n'è più neanche uno di quei posti letto. Oggi a Fano è rimasta solo una sala a gessi. E non possiamo dire neanche che siano stati trasferiti a Pesaro. Perché Pesaro, tale, aveva prima 25-26 posti letto, ne ha ancora oggi 25-26 posti letto. Così che, magari, quando ci sono delle emergenze e del particolare affollamento, i pazienti di ortopedia finiscono per essere degenti dei reparti di ginecologia o di neurologia. Ma quei 50 posti letto di ortopedia fanese che spariscono a Fano, vengono ceduti alla clinica privata che ancora non è sorta. In maniera completamente opposta, come si dovrebbe fare di solito. Cioè, di solito, nelle altre regioni, la clinica privata nasce e poi si convenziona con il pubblico. Bene, nella nostra regione è successo esattamente il contrario. Quei 50 posti letti sono già stati assegnati in convenzioni prima ancora che la clinica privata venga costruita. Ecco, per tutti questi motivi noi riteniamo che il protocollo sanità firmato tra Seri e Ceriscioli dovrà essere assolutamente abolito e dovrà essere ripristinata, quanto prima, la situazione antecedente a quello che stiamo evidentemente verificando tutti i giorni, cioè l'espogliazione dell'ospedale Santa Croce. Tra l'altro la questione è l'ospedale Santa Croce, ma non è una questione prettamente fanese, perché non riguarda soltanto i fanesi. Assolutamente no, perché in questi anni il progetto di cui parlava Danna qualche minuto fa, il progetto prevedeva l'espogliazione, la chiusura di tutti gli ospedali dell'entroterra con l'obiettivo di costituire un'unica struttura a Pesaro. E infatti Cagli non c'è più nulla, Sasso Corvaro non c'è più nulla, addirittura a Sasso Corvaro c'è stata un'espogliazione proprio della città, ma di questo sarebbe ancora un altro tema. Fossombrone, Pergola, sono tutte strutture in cui sono rimaste le pareti, all'interno delle pareti sono state inserite, quando va bene, delle strutture private, che quindi erogano servizi privati, anche se in convenzioni, ma comunque sono società private, e queste città sono rimaste prive assolutamente del punto di primo soccorso, rendendo quindi particolarmente critica la possibilità di poter salvare le vite in caso di emergenza. Ieri ero a Fossombrone e parlavo con una signora che aveva lavorato tanti anni all'interno di quell'ospedale e che ora è in pensione, e che mi diceva che lei vive perennemente nella paura di poter, di avere magari qualche malore e di non riuscire a fare in tempo. Quindi che cosa dobbiamo assolutamente recuperare? Dobbiamo recuperare tutta la sanità di prossimità, cioè la sanità che era vicina alle persone e che oggi non c'è più, e partendo immediatamente dal recupero e dal potenziamento dei punti di primo intervento, perché chi vive nell'entroterra non è un cittadino di serie B e ha il diritto di curarsi e di salvare la propria vita così come ce l'hanno le persone che vivono a Pesaro. Ma che cosa dobbiamo considerare allora come previsione per questo piano socio-sanitario? Che cosa dobbiamo mettere in rilievo? Bene, il piano socio-sanitario che verrà e che dovrà essere riscritto. Mi piace dire che nel libro di Francesco Acquaroli, nella storia nuova che Francesco Acquaroli scriverà per la nostra regione, ci sarà una pagina dedicata alla sanità e mi piace dire che noi che abbiamo da anni, da anni, ci siamo battuti sul tema della sanità, vorremmo poter aiutare a scrivere quella pagina, perché abbiamo tante informazioni e tanta conoscenza e tanta esperienza anche del territorio. Bene, in quella pagina noi scriveremo sicuramente un nuovo piano socio-sanitario, che tenga presente esattamente le cose che dicevo un istante fa, cioè la sanità per essere di qualità, per essere efficiente, ha bisogno di essere vicina alle persone, vicina ai bisogni, vicina alle esigenze. Quindi dovremo ripotenziare, tornare a parlare di una rete ospedaliera. Non ci serve l'ospedale unico, il Covid ce lo ha dimostrato. Una singola struttura è solo un moltiplicatore di contagi e questo ormai è evidente a tutti, dai sociologi agli esperti di medicina ai biologi. Per poter combattere le pandemie e quindi i contagi, noi abbiamo bisogno di una distribuzione di strutture sanitarie e quindi di una rete ospedaliera. Poi magari ci saranno dei reparti che possono avere una specificità e allora non c'è bisogno di replicarli, ma alcuni reparti come il pronto intervento, come le chirurgie, hanno la necessità di essere presenti e vicini alle persone. Abolizione del protocollo d'intesa sicuramente e quindi in qualche modo una revisione di tutte le idee che sono state maturate in maniera assolutamente sciagurata in questi anni, abbiamo bisogno di modificare la visione della sanità e integrazione del privato con il pubblico, questo vuol dire che prima dobbiamo pensare alle strutture pubbliche e solo successivamente parleremo di strutture private, ma la priorità ce le hanno i servizi delle strutture. Mi piace sottolineare ancora una volta Giancarlo Danna il fatto che il Covid è stato un aggravante sicuramente, però già da anni addietro avevamo tutti l'idea che una forza come l'ospedale Santa Croce di Fano era da potenziare, era una forza da aumentare, insomma questa era una realtà di cui già avevamo preso coscienza tutti quanti. Purtroppo in molti non hanno letto quel piano sociosanitario che evidentemente andava nella direzione attuale, cioè a creare dei problemi in un momento in cui c'era un evento eccezionale. Già nel quotidiano avevamo visto che per fare una visita, per fare un controllo c'erano tempi di attesa lunghissimi e spostamenti addirittura all'interno della regione. Lo stesso CUP che io contestai quando ero consigliere regionale, a tutt'oggi, pur avendo investito milioni e milioni di euro, non funziona. Ti lascia lì due o tre ore in attesa per poi dirti che il posto non c'è o che devi andare a fare una visita a Scolipiceno. Questo francamente è assurdo. In quel piano sociosanitario tutto questo c'era scritto. Ripeto, io mi meraviglio di coloro che oggi dicono siamo a difesa, a difesa di cosa? Degli errori che avete commesso prima. E questo purtroppo è trasversale. Però d'altronde quando abbiamo degli amministratori che pur di fare audience intervengono anche in temi che non conoscono, faccio riferimento, non so se vi ricordate il metodo Vannoni, no? Stamina. Ci furono degli amministratori che addirittura scrissero ai magistrati per far fare le infusioni a persone. Di quello che poi si è rivelato un imbroglio, tant'è vero che lo stesso Vannoni è morto di malattia. Cioè bisogna conoscere gli argomenti, le situazioni e poi indicare la strada ai cittadini. Quindi il nuovo piano sociosanitario evidentemente dovrà mettere a posto 100.000 cose che sono state fatte male, ma che sono state fatte male in alcune situazioni proprio di proposito. Cioè se è vero come è vero che l'80% del bilancio regionale va a finire in sanità, noi ci meritiamo una sanità diversa da quella. Cioè dovrebbero aprire piuttosto che chiudere. Quindi invece stanno chiudendo con il beneplacito di tanti. Ripeto che oggi fanno i condottieri di una battaglia che poi hanno contribuito a creare una serie di problemi che sono difficilmente recuperabili se non con una nuova giunta che abbia però le intenzioni di correggere. E quindi a questo punto persone con esperienza come Lucia Tarsi evidentemente possono essere utili perché questo percorso l'ha fatto, l'ha vissuto, ci ha creduto nel momento in cui tanti altri non ci credevano. E quindi bisogna necessariamente mettere le mani sul nuovo piano sociosanitario tenendo presente anche la questione del Covid, ma non c'è solo il Covid, c'è il quotidiano. Il quotidiano è il problema che il cittadino ha nel prenotare una visita, nel fare una visita, nel raggiungere l'ospedale quando si parla di entroterra. Quindi questa espogliazione che c'è stata va recuperata ma va recuperata con forza perché la salute, come si dice, è il bene primario. E noi crediamo nella salute pubblica, tutelata dal pubblico. Non vi fate illudere che diventa la cotignola di Fano una realtà privata perché quando il privato poi diventerà monopolista di alcuni settori i prezzi li farà lui perché le convenzioni non durano in eterno. E quindi molta attenzione. Noi crediamo che la salute pubblica passa attraverso una sanità pubblica. Allora i cittadini hanno bisogno di gesti concreti. Quindi io ti chiedo Lucia quali sono i punti programmatici poi sottoscritti anche con Acquaroli per quanto riguarda la sanità. Che cosa si farà nel concreto? Sicuramente il programma include come prima richiesta, come prima necessità quella di ritornare alla sanità di prossimità come valore civile. perché quello che è successo negli ultimi anni, la devastazione, i disagi, i problemi che le persone hanno dovuto incontrare sono solo ed esclusivamente conseguenza dell'idea di voler accentrare. Ecco, accentrare non funziona. Ci sono le province a noi vicine che hanno una sanità d'eccellenza nella classificazione italiana Rimini, Forlì, Cesena, sono tra i primi dieci posti eppure a Rimini, Forlì, Cesena non è stato chiuso mai niente, mai niente è stato unificato. Allora, prendiamo quello come modello, diventerà anche per noi la possibilità, avremo anche noi la possibilità quindi recuperando la sanità diffusa sul territorio, di poter erogare servizi con prestazioni più celeri, più veloci di essere vicino alla gente, di evitare che la gente debba fare decine, se non centinaia di chilometri per andare a farsi una risonanza o un esame e quindi il piano sociosanitario, il nuovo piano sociosanitario che dovremo riscrivere con Francesco Acquaroli dovrà avere come primo punto sicuramente l'idea di una sanità vicina alle persone. Questo è un elemento che deve essere rimarcato, assolutamente sottolineato e sarà il primo obiettivo. Bene, noi siamo quasi addirittura ad arrivo, chiederei le battute conclusive, una Giancarlo Danna e una naturalmente alleciatarsi. Ma diciamo in questo breve tempo che abbiamo avuto a disposizione, perché il tema sicuramente è molto vasto, credo che possiamo arrivare alla conclusione che è necessario mettere le mani al nuovo piano sociosanitario, che è necessario difendere l'ospedale di Fano, gli ospedali dell'entroterra, ma anche all'ospedale di Pesaro, perché è giusto che le strutture che già esistono continuino ad esistere in collaborazione tra di loro. Però santo Dio io vorrei che quelli che nascono a Fano continuino a nascere a Fano, quelli che nascono a Pesaro continuino a nascere a Pesaro e nell'entroterra lo stesso, anche perché questa diffusione della sanità sul territorio non è solo una questione di campanile, ma è soprattutto una questione che garantisce in particolar modo agli anziani e le fasce più deboli quella tranquillità di raggiungere in breve tempo una struttura nel momento in cui c'è realmente bisogno. Quindi l'invito è quello di votare persone come la Lucia Tarsi che in questi anni ha dimostrato di essere coerente su questo tema per dare una continuità a una battaglia che è iniziata tanti anni fa. Lucia? Beh, sicuramente dovremmo porre anche molta attenzione alle risorse, che sono sì risorse materiali, ma sono soprattutto risorse umane. Nel corso di questi anni l'impoverimento dell'ospedale Santa Croce si è manifestato anche come minor numero di medici, minor numero di infermieri e di personale sanitario. Ecco, questa tendenza dovrà essere assolutamente invertita. Bisogna dare fiato ai nostri medici e ai nostri infermieri e in questo momento mi viene anche l'intenzione, la voglia di ringraziare, ringraziare tutto il personale sanitario che nonostante le grandi privazioni, nonostante che le risorse siano sempre più risicate, il personale sanitario è riuscito comunque, a prezzo di grandi sacrifici, di spirito di dedizione, a dare risposte importanti. Risposte importanti per cui la gente si è comunque sentita accolta e comunque stata curata con dignità. Ecco, non possiamo più contare però soltanto sullo spirito di sacrificio del personale. Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Quindi dovremo assolutamente prevedere, oltre alla sanità di prossimità, anche un aumento delle risorse sia materiali sia umane. Questa è una delle condizioni assolutamente imprescindibili per poter avere una sanità di qualità. Bene, io ringrazio i nostri ospiti in studio, grazie Giancarlo Danna. Grazie, buona serata a tutti. E grazie naturalmente a Lucia Tarsi. Buona serata a tutti e grazie a Maria Elena che è sempre molto gentile, ci accoglie nel suo salotto. Grazie. E io ringrazio voi che ci avete seguito da casa, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.